Sono i giorni del nero su bianco, quelli che l'Avellino sta vivendo. Dopo aver formalizzato gli acquisti di Salvatore Molinaro, Martin Wilmoz e Kenneth Tudre ed il rinnovo triennale di Nicola Falasco, toccherà Michele Di Gregorio, che firmerà oggi per il prestito all'Avellino, e Federico Valietti. La dirigenza erpina inoltre ha anche scelto il terzo portiere giovane che farà la spola tra prima squadra e la primavera, Marco Lassi, classe 2000, cresciuto nel Sondrio. Sarà poi la volta di Ivan Lanni, per il quale nei ultimi giorni c'è stato un rallentamento a causa del passaggio di proprietà dell'Ascoli, ma che verrà ufficializzato nell'ambito dell'operazione di scambio con Luca Lezzerini. Una volta formalizzate queste trattative, bisognerà poi capire chi sarà il difensore centrale che per il momento completerà il pacchetto arretrato e chi sarà invece il nuovo centrocampista. Per quanto riguarda il primo profilo, sono stati fatti diversi sondaggi, ma alla fine la società erpina opterà per un calciatore che arriverà dall'estero in una società di Serie A per poi essere girato in prestito all'Avellino. Per il momento però il nome è Top Secret. Per quanto riguarda il centrocampista, invece, l'accordo con Emmanuel Besea è stato trovato da tempo, ma la dirigenza bianco-verde ha preso tempo per vadutare le situazioni societarie di Juve Stabia e Reggiana, poiché, su tutti, interessa e non poco quell'Alessandro Mastali, ricercato a lungo nello scorso mese di gennaio. Capitolo attaccanti. Salvo colpi di scena, Nicola Citro non verrà ad Avellino. Il motivo non è di natura economica, anche perché il Frosinone si era reso disponibile a partecipare all'ingaggio del calciatore. Ma con il rinnovo di Gigi Castaldo, la ferma volontà di Matteo Ardemagni di restare in Irpinia e la scommessa di Michele Marcolini su Benjamin Mokulu diventa difficile mettere in organico un altro calciatore di spessore che potrebbe alterare gli equilibri dello spogliatoio. Per il momento il discorso per il Messi di Fisciano è stato rimandato, ma la sensazione è che alla fine possa optare per altri lidi.